Buongiorno Archiderio di Mirozolo, Archidiano Medicina per l'Anima, il nostro slogan. Mi ricordo sempre il nuovo libro Archidia Storie e Personaggi, terza edizione. Adesso costa 20 euro e qualcosa, sono 369 pagine, ha tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Allora, la pianta di questo video è il Bulbofilum Iberaldi, che adesso è diventato Cirro Petrum Iberaldi. I Bulbofilum sono caratteristici da avere il labello mobile, qui non so se si vede. Tutti i Bulbofilum hanno una caratteristica, cioè ognuno di questi qua è un fiore, questo è un fiore scienza, con i singoli fiore. Vedete questi peletti che c'è qua sopra, non so se si riesce a vederli. Sono dei piccoli peletti che mi ricordo quando Pupin voleva fotografarli, diventava matto, perché lui è un perfezionista, lui aveva un'attrezzatura da fotografo professionista, perché aveva due Asseblood, tanti obiettivi, delle scuole il soffietto, e quando era una giornata lavorativa, in una giornata quando andava bene faceva, quando faceva dieci foto era una cosa eccezionale, perché doveva mettere lì tutte le pose prima di scattare tutto. Diventava matto perché, allora aveva attrezzato l'avanserra lì come studio fotografico, e chiudeva tutto, ed estate faceva un caldo boia, quest'anno fa fresco il mese di giugno, perché questo finisce generalmente giugno-lugno, ma solitamente fa un caldo boia, chiudendo tutto diventava un caldo insopportabile. E lui diventava matto perché anche con tutto chiuso, senza aria, i peletti li si muovevano, e lui voleva fare la foto con i peletti fermi. Generalmente i bulbofilum puzzano, questo qui per esempio ha un odore un po' di pesce mascio, così, ce n'è anche qualcuno profumato, pochi, la maggior parte puzzano. Sono originari di bulbofilum, il genere più vasto di orchidee che ci sia, sono più di 2000 specie, la maggior parte vengono dal continente asiatico e australiano, però ce n'è anche in Africa e in America, però la maggior parte appunto sono in Asia e in Australia. Adesso appunto tutto questo genere viene diviso in tanti altri generi, per esempio questi qui con i petri e raggera, con i fiori, non sono petri, sono i simili fiori e raggera, sono diventati cirropetrum e poi c'è tanti altri, mastigopetrum, cioè ci sono diversi, si sta separando in tanti gruppi in base alle caratteristiche delle varie specie, sovragruppandole le specie con le caratteristiche simili. Bene, questo è per la pianta del video, invece oggi ho un problema adesso. Ah, ieri, ieri non abbiamo fatto il video, perché quando eravamo qui che dovevamo fare il video è arrivato un temporale che è una roba incredibile, è venuta giù tanta acqua, è come se ce la buttassero giù con il secchio, tuoni, fulmini, grandine, è stata anche una bella grandinata che però opportunatamente non ha fatto danni. Oggi sta cominciando a arrivare il temporale, allora facciamo subito il video. Ecco, adesso ho un problema che sul mio profilo personale su Facebook, Giancarlo Pozzi, non riesco più a mettere amici, perché ho raggiunto 5.000 amici e c'è tanti che vogliono diventare amici e non posso più, Facebook mi dice che non puoi mettere più di 5.000 amici. Allora, come posso fare, com'è che posso risolvere questo problema qua? Perché ogni giorno ho 4, 5, 10 amici che vogliono diventare amici e io non posso aggiungere perché Facebook mi dice che non posso aggiungere altri. E poi come si fa a cancellare uno? Perché ci sono certi che potrebbero cancellare, certi vecchi, 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 però non so come si fa. Se c'è qualcuno che mi può dare qualche suggerimento come fare a risolvere questo problema qua, perché mi spiace tutti quelli che vogliono diventare amici che non posso fare di diventare amici. Vabbè, tutto qua. Il Bulbophilum e i Berardi è molto carino, peccato che puzza, però la bellezza della pianta fa dimenticare anche questo problema, perché poi la puzza, cioè si puzza se si va a annusare, se non si annusa non si sente, però se si annusa non è un bello annusare. Ok.